Buongiorno! Buongiorno! Ti sei ritirato! Sai a volte ho avuto da fare! E dai, senta a volte ti devo dire una bella cosa! Dì che cosa devi dire? Che io ho valuto quando devi dire belle cose tue! Oggi è stata una giornata fortima! Veramente? Si! Che ne sai? Che stavo camminando per la strada Da un certo punto vedo una cosa lì per terra Indovino che cos'era? Che cos'era? Dieci euro! Moooo! Hai trovato dieci euro? Si! Come l'ho preso! E da un cristiano quale sono ho pensato Che cosa avrebbe fatto Gesù? Eh? Allora io ho preso dieci euro e li ho trasformato in due bottine di vino Eh? C'è sorta da un riaco una casinca E va bene! E va bene! E va bene! Non ho parlato sempre buono! Scusa! E dai! Non mi trattare! Io sento la mia mani! Che potre! La mia mani! C'è lo sento! E vi è stata la mia mania